Bruciano i boschi del Vallo di Diano, Atena Lucana, Polla e Sala Consilina le aree più colpite dagli incendi negli ultimi giorni. Le squadre AIB della comunità montana Vallo di Diano sono state impegnate su più fronti tutto il fine settimana. Stamattina su Sala Consilina in Foresta Cupone la squadra antincendio boschivo con il capo squadra Casa Nuovo per le operazioni di bonifica del perimetro interessato dal fuoco nei giorni scorsi attraverso le fasce spezzafuoco. La speranza, dicono, rimane sempre quella che le piogge possano rimediare alla grande siccità che ha reso il terreno arso. I 45 ettari di bosco cedo bruciati nei giorni scorsi hanno lasciato molti residui a terra in fase di decomposizione. Ieri, sulle località Saracena, Foresta Cupone, al confine tra i comuni di Atena Lucana e Sala Consilina, c'erano in azione due canader coordinati dai direttori organizzativi allo spegnimento Caccavo Santoriello. Le fiamme hanno funestato la vegetazione montuosa della zona per diversi giorni, dalla tarda mattinata di giovedì. Venerdì sera, grazie all'impegnativo e proficuo intervento dei mezzi aerei e al lavoro delle tre squadre dell'AIB, intervenute sembrava circoscritto il rogo. Sabato mattina poi le squadre antincendio unitamente ai cantieri forestali di Atena Lucana e Sala Consilina, che fanno capo all'ente, sono ritornate per il secondo giorno consecutivo sul posto per la bonifica del perimetro interessato dal fuoco. A causa del vento, nel primo pomeriggio di sabato, dal versante di Atena Lucana c'è stata una ripresa dell'incendio su località Saracena. L'ente Montano non esita a definire l'accaduto un vero e proprio disastro ambientale. Negli stessi momenti la squadra del distaccamento di San Rufo con caposquadra Mastroberti interveniva a Polla sul costone roccioso che porta al convento. In località Calvario ieri mattina insisteva il fuoco scaturito sabato da un ammasso di rifiuti bruciati. Le fiamme poi si sono divulgate lungo l'impervio costone roccioso nelle vicinanze delle abitazioni, a contrastare e contenere in rogo in azione la squadra del distaccamento di San Rufo sotto la direzione del caposquadra Ricciardone. A rendere particolarmente rischioso il lavoro degli operai era il luogo delle fiamme che li costringeva ad operare a strapiombo sul costone di roccia. Qui le criticità della zona impervia e della rete elettrica hanno reso problematiche le operazioni con i mezzi aerei e la squadra antincendio è rimasta sul posto a presidiare l'area.